salve gente bentornati esattamente come leggete da questo fogliettino questo è l'ultimo video del 2017 ho scelto di iniziare così con questo fogliettino solo per farvi vedere la mia capacità di scrivere negli spazi e perché vorrei fare un pochino un riassunto se i cani giustamente iniziano proprio adesso a giocare e fare un riassunto di tutto il 2017 tutto ciò che è uscito nei negozi per quanto riguarda gli Yankee Candle nel 2017 mi limito ai negozi italiani perché se dovesse andare a spaziare anche su tutte le collezioni uscite anche in America diventerei scema e diventerebbe di due anni e mezzo solo il video per spiegare tutto e soprattutto non sarà un video di iscrizione come i miei soliti ma sarà un pochino una carrellata con le indicazioni principali perché poi tanto sotto in descrizione in infobox vi metto i link diretti per le recensioni quindi se qualcosa vedete qualcosa vi metto la recensione sotto dicendovi di che collezione è quindi non ci saranno problemi di di questo tipo quindi togliamo questo favoloso bigliettino e iniziamo subito la prima collezione che è uscita nel 2017 a fine dicembre oltretutto nemmeno i primi di gennaio e fino a dicembre è arrivata questa collezione sono queste tre qua queste tre qua che zoom metto lì il focus e magari le c'è un po anche sono tre profumazioni che sono uscite per la collezione della pure essence sono la pure essence era una collezione che usciva già da due anni sono uscivano gruppi di tre fragranze e sarebbe appunto essenze pure sono profumi puri tra virgolette cioè quindi semplici lineari quest'anno uscita la cherry blossom la cherry blossom era una fragranza che era già uscita a catalogo fu poi ritirata e adesso è ritornata in un nuovo in una nuova forma in un con nuovi abiti un colorino un pochino più più rosato più carico e questi i fiori di ciliegio con un etichetto un pochino diversa adesso ce la farò con queste cose con questa tecnologia con questi fiori di pesco un pochino diversi e comunque il profumo è sempre profumo di pesco poi ci fu la sempre per la stessa collezione l'indentrì che probabilmente è il tiglio e io dissi che ricordava molto l'odore di circonvallazione perché in circonvallazione ci sono degli alberi aspetta ben che faccio una roba che sto ferma che meglio altrimenti vi faccio venire mal di mare e l'indentrì premente ci sono dei fiori gli alberi lungo la circonvallazione che appunto sono i tigli e quindi a me mi ricorda a me mi perché era forzativo ricorda tanto l'odore della circonvallazione appunto perché ci sono questi alberi poi è uscita anche una menta una menta semplice quindi non in combinazione con altri sentori una menta mentina praticamente è una menta un pochino non pesante a foglia grossa ma appunto leggera non a me non ricorda quella del mohit un pochino tipo quella del chowing più caramellata come mentina poi e questa fu la collezione pure essence che di solito usciva a primavera poi l'altra collezione che uscì in vista della primavera è stata la costa al living che adesso le trovo tutte queste e queste due la costa al living la costa al living era una collezione dedicata era una collezione dedicata al mare però al mare in una concezione primaverile quindi per i primi caldini il mare allora ci sono le metto vicine che meglio ci sono preferisco metterle così poi capite perché ci sono queste due profumazioni che bene o male sono simili sono comunque sul genere pulito sono di non troppo elevata intensità a mio avviso questa è più terrosa cioè più legata alla terra questo è più invece più ariosa più legata appunto all'aria però sono tutte vanno a combinarsi comunque con un'idea di mare una più sull'erbettina che si trova appunto sulle dune sulla spiaggia quell'altro invece proprio aria di mare un pochino non tanto salmastra quanto ozonata secondo me però non è una assolutissima mentola dopo barbina anzi è una coccolina a mio avviso poi abbiamo invece questa che è la garden by the sea che praticamente oltre a ricordare un sacco l'etichetta della riviera escape scusate e mi ricorda un sacco un profumo femminile però non un profumo femminile sfacciato pesante che proprio in faccia come altre profumazioni di Yankee Candle bensì un profumo leggero come appunto avevo descritto mi pare come se per dire una persona una donna perché comunque profumo femminile ha una sciarpina imbevuta di questo profumo e quando si muove ti arrivano le ventate di profumo ecco funziona ventate questa profumazione qui questa invece è più legnosa non più legnosa è la legnosa della collezione e ciò che mi è non mi ricordo se l'ho messa tra le coccoline o le erbettose perché ciò che mi ricorda è esattamente il sentore legnoso all'interno di una dopo barbina ecco un po' un vaneggiare queste descrizioni e questa era collezione costa living omonima di questa fragranza dedicata alla primavera del 2017 poi andando avanti con le stagioni abbiamo la collezione viva Havana di cui abbiamo ovviamente l'omonima viva Havana la del chius guava la cuba mojito e la tobacco flower guardate che viaggiano allora questa qua invece è una come potete ben vedere è una profumazione dedicata a Cuba quindi abbiamo una profumazione omonima della collezione che è generica quindi decisamente coccolina abbiamo un mojito quindi un aperitivosa una fiorita la tobacco flower e una fruttata quindi sono profumazioni decisamente più estive rispetto alla costa living che erano molto più tranquille come profumazioni sono più incisive queste qui la viva Havana è un misculion tra incenso vaniglia legni spezie particolarissimo non è impossibile descriverne la profumazione però è davvero intenso è un profumo tondo e corposo e non so se sia un odore tipico di Cuba perché non ci sono mai state però se Cuba profuma così è davvero buona poi abbiamo la delicios guava che comunque la guava è un frutto quindi abbiamo una fruttata fresca e Cuba mojito appunto è il mojito io sento maggiormente la nota aspirina del lime quindi della buccia del lime con cui si fa il mojito più che la nota dolce del rum e poi abbiamo la tobacco flower che a me personalmente ricorda un sacco e l'odore di tabacco c'è chi se ne ha lamentato c'è nel senso che dovrebbe sapere appunto di questo fiore del tabacco che ha un retrogusto appunto di tabacco ma non di sigaretta il tabacco il sigaro proprio a me invece mi ha ricordato un sacco il profumo della si staccano giustamente un sacco l'odore della adesso la dico della camomilti non so perché comunque è un odore dolce si sente fiorito però a me ricordo un sacco la camomilti adesso non prendetevela male se per dire l'anno usate e non vi ricorda perché è una cosa personale un'idea personale come qualsiasi idea che espongo nel mio blog e nel mio canale youtube questo canale poi e queste sono le quattro profumazioni dedicate all'estate e adesso si va avanti con la prossima stagione eccoci qui con invece la collezione fall in love della collezione appunto autunnale fall in love che vuol dire innamorarsi e fall vuol dire anche è un sinonimo di autunno quindi questo gioco di parole autunno in amore bene detto questo e procediamo con le fragranze singole abbiamo zoom qui la vibrante saffron ecco qua che è una profumazione allora se la vedete di questo colore non preoccupatevi non è il colore normale io ci ho giocato sotto la lampada che ha un pochino mosso tutti gli oglietti a destra e sinistra quindi questo non è il risultato ma poco conta perché profuma che è una meraviglia questa è la vi c'è loro il colore originale sarebbe questo può un pochino più decente ecco questa profumazione tra le tra tutte è la più speziata però non dà fastidio come potrebbe per dire dar fastidio una proprio cannellosa pesante ci sono dei legni c'è sicuramente dell'ambra della della vaniglia che comunque vanno a dolciere la situazione qui invece abbiamo la warm cashmere che sta a mezza via tra una coccolina e una profumazione malafemmina a me ha ricordato a me e forse solo a me ma a poco conto io valgo ha ricordato però non allarmatevi ha ricordato la vanilla saten da tanto usannata anzi addirittura vanilla saten mi è sembrata più infatti ci sono più agrumi nella vanilla saten questa invece è molto più vanigliata molto più morbida e molto più gentile come profumazione poi abbiamo nella collezione la mulberry fig delight che quindi è questa mora con il ginepro con il fico l'ho accesa quando avevo mal di testa ed è stato un trauma l'ho riaccesa senza mal di testa ed è stato amore una fragranza molto particolare però è la tra virgolette più scontata della collezione per il semplice fatto che è fruttata di fruttate ce ne sono tante le altre invece di questa stessa collezione non sono così scontate poi c'è scontata non è che questo è scontata però di profumazione fruppate ce ne sono quindi non è tutta sta gran novità però mi è piaciuto molto il fico che di solito il fico a me non piace invece al suo interno mi è piaciuto molto visto che si sentiva il fico l'ultima ma non per ora di portata un importanza è la autumn glow qui così e che praticamente è anch'essa una profumazione decisamente coccolina è forse la più indefinita di tutte ha una profumazione tonda proprio ciocciotta a 360 gradi riempie l'ambiente è buona e non mi ricordo cosa c'è dentro quindi andate a vedere sotto l'info box la recensione della collezione totale perché come vedete questo qua ecco facendo i casini questa è una una panoramica su tutto ciò che è uscito e queste erano le profumazioni autunnali sono le profumazioni autunnali che sono uscite questo autunno e adesso andiamo avanti con quelle invernali eccoci con le quattro profumazioni invernali natalissie la collezione si chiama the perfect christmas e va un pochino a chiudere nuove sono profumazioni nuove parte una un e mezzo però sono cioè sono nuovi in un certo senso sono classiche però nuove ecco non sono proprio ripetizioni di altre collezioni di altri anni ecco c'è della novità come mezzo come ce n'è stata poi nelle altre collezioni e allora il focus è un po' quel che è perché come vedete ci sono tre jarre piccole e una grande che adesso ve la faccio sparire subito perché ne parlo subito è quella che mi ha inviato la Yankee Candle in persona è una profumazione buona non buona di più adesso faccio un bello zoom lì e poi lo metto anche a focus ecco è una profumazione che dovrebbe sapere di cioccolata speziata c'è mezzo mi sembra della noce moscata allora come vi ho già detto sempre potete andare a vedere la descrizione ufficiale la mia impressione precisa nell'info box al video dedicato che avevo già pubblicato la profumazione sostanzialmente si rassume in pandoro con zucchero questo è quanto no è una profumazione dolce da spenta sa un sacco di pandoro secondo me invece quando la accendi vira di più verso il gusto di latte caldo ecco però la componente pandorosa regna sovrana lascio questa qua la sposto un pochino più in là perché volevo far spazio alle nanette alle nanette e poi questa qua questa Spice White Cocoa è una profumazione che è arrivata quest'anno da noi ma era già uscita un anno fa in America sempre nella collezione come si chiama natalizia perdo le parole cioè sto pensando a quello che devo dire dopo e quindi mi dimentico quello che devo dire adesso benissimo qui ci sono le tre nanette partiamo con Christmas Magic che è una profumazione nuova diversa adesso il mi piace questo doppio colore dovuto sempre alla lampada dove l'ho ficcata sotto è un profumo diverso ci sono sia notte dolci che notte pinose ecco però è ben bilanciato e non è un copia in colla di altre profumazioni è abbastanza innovativo e buono mai avrei creduto che mi sarebbe piaciuto così tanto perché quando l'ho usata la prima volta e tutto sarà prendiamolo proviamolo qualcosa non uscirà fuori invece è decisamente piacevole come profumazione non ha quella spinta pesante natalizia come può avere un'altra rossa al gusto cannella però ha quell'idea di calore di casa natalizio poi abbiamo la crackling wood fire che non per forza deve avere un'accezione natalizia perché nonostante sia una festiva perché probabilmente dovrebbe sapere da questi questi lini che il crepitio del cammino sì ci sono note legnose ma ciò che maggiormente spicca secondo me anche a distanza di tempo che le ho riprovate sono questo odore magari sorprendentemente di pulito cioè non che sia una pulitosa a livelli di clean cotton o fluffy towel però comunque è un profumo abbastanza leggero non leggero che non si sente ma leggero che non appesantisce l'aria ed è anche questa molto piacevole questa che è la più scontata come colore come anche profumo però è buona è buona perché comunque è pulita cioè potrebbe essere anche una pura essence natalizia perché comunque è un profumo di albero nulla più nulla meno e queste sono le adesso tutte scompigliate belle sono le quattro profumazioni che erano in vendita e sono ancora in vendita per la collezione invece the perfect christmas queste erano le collezioni principali di quest'anno quindi divise sulle quattro stagioni più la pure essence che comunque farà sapere conto proprio adesso andiamo avanti con premium e limited edition eccoci qua con le premium anche qua ve ne parlerò partendo dalle prime che sono uscite andando avanti tutto il lungo corso dell'anno le prime che sono uscite sono state queste qua la peach and lavender che mai avevo sentito nominare e mai avevo visto e vi devo dire che è davvero buona ed è una buona combinazione tra pesca e lavanda guarda caso è quello che c'è scritto qui e ciò che c'è disegnato nell'etichetta sono due fragranze scusate è una fragranza davvero particolare perché comunque si sente il ruvidino come della pesca che va in no scusate il ruvidino della lavanda che va in contrasto invece col dolce il pelosino della pesca perché senti proprio l'odore del pelosino della buccia e questa è la peach e lavanda ovviamente come ho detto con lo ripeterò fino allo svenimento di tutte di tutto ciò che dirò qui troverete le recensioni nello specifico sotto nella descrizione box informazioni tutte elencate vi metto tutti i link poi l'altra è la water garden che è una fragranza che io stavo puntando da diverso tempo una fragranza che anch'essa è stata catalogo se non ricordo male poi è uscita è una profumazione davvero strana una profumazione decisamente acquatica non è per nulla dopo barbina a mio avviso anzi è una coccolina con decise note verdi a me ricorda questa immagine qui i giardini di Versailles che io adoro cioè proprio adoro l'ennesima potenza ci sono stata e la mia idea era abbandonatemi qua in mezzo in mezzo al niente in mezzo a questi giardini ci rivediamo quando muoio ecco questa è odore di acquetta proprio di bagnatino con notte mi pare si verdi ma anche qualcosa di fiorito secondo me ma non ne sono sicura ovviamente come ho detto lo trovate tutto qua sotto nell'info box dove trovate il video linkato queste sono state le prime due poi un attimino che le metto via senza far troppo casino poi sono arrivate queste qua queste qua che sono due profumazioni più sul primaverile andante perché le prime due sono proprio sul primaverile perché comunque anche se secondo gennaio siamo già tutti proiettati verso la primavera anche se siamo in pieno inverno e sono altre due profumazioni primaverile la cherry lemonade anche questa era stata forse a catalogo non ne sono sicura questa decisamente no questa è una profumazione che sarebbe probabilmente limonata di ciliegie ma ciò che secondo me spicca un sacco al suo interno è l'odore di mandorla cioè io ci sento la mandorla lì in mezzo non capisco perché l'etichetta comunque è favolosa eccola qua io ci sento un sacco la mandorla qua in mezzo comunque è buona è fresca non troppo frizzantina non troppo non troppo però la mandorla c'è secondo me è un po' il mix dolce amaro del limone mi fa buttare fuori sta mandorla non so perché questa invece è più sul è una fresh è più sul dopo barbino coccolino andante ma più sul dopo barbino e vorrei ovviamente sottolineare che questa etichetta vorrei risottolinearlo che mi ricordo un sacco il video di Britney Spears sometimes che se la canta sul sul pontile del mare ecco sicuramente è stata questa è una marina è una dopo barbina a mio avviso è molto più intensa quindi comunque siamo sul genere un po' meno carica cioè spinge un po' meno ma siamo sempre lì sul genere tipo turquoise sky per intenderci poi altre due sempre in ordine cronologico che sono arrivate sentirete sicuramente è odore rumore di sbattimento di sbattitura di giare eccole qua sono queste qui queste qui sono più proiettate verso l'autunno perché comunque il melograno un frutto autunnale e anche il maple pancakes è già un pochino più più autunnale cioè in primavera lo vedi poco primavera estate lo vedi poco il pancakes quindi scusate mi sono sbagliata le prime due erano primavera queste qua sono sono più sul come si chiama sull'estate ecco queste qua invece siamo già proiettate sull'autunno infatti sono uscite in estate perché sono quando c'è una stagione escono quelle della stagione dopo fanno sti casini qua che poi la gente si perde nelle stagioni non si sa più che stagione è ed è per quello che a gennaio si ha tanta voglia di primavera perché escono le primaveri invece si è nel bel mezzo dell'inverno pomegranate cedar che è una fragranza dolce tantissimo dolce si sente benissimo lo ha acceso anche normalmente testimone lo stoppino bruciato e anche la piscinetta che mi ha fatto è un odore tondo c'è un odore fruttato si frutto rosso come è il melograno e quindi viene identificabile però è un profumo tondo intenso riempie bene si è posizionato in un punto dove le correnti d'aria sono favorevoli e non è che vanno a non far fare la piscina però l'aria gira e quindi il profumo permette quindi l'aria permette al profumo di diffondersi questa qua è proprio una bomba dolce melograno succo di melograno sa proprio di spremitura di melograno questo invece è maple pancakes ovviamente maple è lo sciroppo d'acero pancakes è una profumazione più autunnale più più tre virgolette cupa rispetto al sidro di melograno è una diabetico ovviamente è più tamugna è più pesante nell'area rispetto appunto a sua amica qua e molti hanno detto che ci sentono delle gran specie io sinceramente tutte queste spezie non so dove le abbiano sentite gli altri io invece sento un grosso proprio un odore intenso di quelli proprio impegnativi come profumazione anche questa l'ho accesa normalmente sempre nello stesso ambiente dove l'aria si diffondeva a meraviglia dove la fragranza si diffondeva a meraviglia e ha fatto un gran bel effetto poi andando avanti abbiamo queste due di premium che allora questa ok però questo è un mix davvero bizzarro si chiama odide and sage praticamente anche di questa troverete i video che vi lascio sotto ogni tanto ve lo ricordo così se vi perdete comunque le descrizioni fate bene su uno sotto è una profumazione davvero bizzarra cioè ok c'è la salvia perché comunque sage è salvia perché la salvia c'è e c'è tutta una serie di note verdi non tipicamente delle fragranze verdi natalizie che però sono decisamente dolci come note verdi però vanno comunque a creare un ambiente piacevole decisamente piacevole questa invece la cranberry peppermint è da una parte è un mix tra due classici di natale tra virgolette perché comunque il cranberry lo si trova in diverse profumazioni per esempio la cranberry ice una famosa tipica natalizia della yankee candle e il peppermint che è quella caramelina che è un mix tra vaniglia e menta un classicone delle fragranze natalizie delle candele delle fragranze delle candele natalizie generali e soprattutto gli yankee perché ce ne sono un sacco di mix menta e vaniglia insieme si va ad aggiungere a questa il cranberry e vado a notare però in questa profumazione la spenta sembra potentissima invece d'accesa emana un profumo dolce si sente vagamente la menta la vaniglia ovviamente di base va ad addolcire poi c'è questo cranberry che dà un carattere diverso una profumazione che viene declinata in 120 milioni di modi diversi e queste erano le premium poi ci sono altre tre fragranze che ho scelto sono uscite sull'autunno però in autunno però ho scelto di metterle dopo le natalizie perché queste qua erano premium dedicate al natale perché stanno un po' una mezza via tra premium e limited edition e poi anche le premium sono limited edition però stanno stanno un pochino fanno un po' da sparti traffico tra queste due tre virulette categorie ovvero queste qui questa questa e questa sono tre candele che mai nessuno avrebbe immaginato sarebbero arrivati in Italia queste tre profumazioni perché fanno parte di una collezione della Yankee Candle che si chiama My Favorite Things ci sono diverse profumazioni sicuramente online troverete anche tutte le altre scoprirete adesso non me le ricordo io tutte perché tanto mi concentro su queste però ci sono altre profumazioni non mi ricordo se sono altre 4-5 praticamente sono una pulitosa una più o meno ma la femmina e una estremamente coccolina quindi bene o male vanno ad abbracciare tutti il infatti sono tutte fresh questa qui siamo all'ordine di una parente di Clean Cotton più Clean Cotton Bundle Up se la conoscete è una profumazione che si sa di pulito però non pulito lavatrice appena fatta ma proprio maglione pulito note fresche note ovviamente vanigliate e e sa sostanzialmente di pulito però non è proprio una una pulitosa spattaccata ha del suo carattere questa qua invece la trovo molto più ehm ma la femmina come profumazione trovo che ci sia non ho non trovo penso che ci siano note di sandoro di ambra di vaniglia in questa ed è una profumazione anche questa morbida questa qua un po' lievemente più pungente questa invece è più morbida più una mala femmina una mala femmina morbida appunto ehm che anche sotto un certo aspetto sa di pulito ovviamente non è che profumerà di gatto ce lo stavate chiedendo no non sa di gatto e però dà quel senso di coccolosità che può dare un micio perché comunque è una fragranza accogliente buona sebbene si senta bene e ci sono legni e note dolci quali la vaniglia e l'ambra adesso non mi ricordo questa invece è quella che mi ha stupito più di tutte ed è anche la più difficile perché si sentono note fiorite note talcate note vanigliate note evidente ci saranno sicuramente anche dei legni non sa da carta da pacco questa volendo può sapere da cuffia e guantini appena lavati questa non sa di carta da pacco e anche questa comunque rimane proprio sul coccolino andante questa qua non è una profumazione che faccia nessuna a parte questa nessuna di queste due è facilmente descrivibile con rimandi chiari questa men che meno proprio però io trovo che queste note talcate che sotto un certo aspetto possono ricordare le note talcate di baby powder ma non sa di baby powder la rendono non fantastica di più e queste erano un pochino quelle le premium e quelle a mezza via tra premium e non e adesso andiamo avanti e le premium e non e quelle tra premium e limited edition non che le premium non siano limited edition e adesso andiamo avanti con le limited edition vere e proprie ecco e con queste invece entriamo a piedi pari nelle limited a maggior ragione perché questa è stata sono due fragranze uscite nel 2017 come pasquali questa era già da un po' di volte che arrivava come pasquale e ci sono mi sa che si qua c'è scritto e ci sono diversi due tre anni nel 2015 c'era era appena arrivata quindi ha fatto il 2015 2016 2017 tre anni come pasquale questa invece è uscita solo l'anno scorso ma entrambe l'anno questo nel 2018 non ci saranno bensì ci saranno altre due profumazioni una che ritorna e una nuova completamente e se volete sapere quali sono qui adesso apparirà una riga con il link del video in cui vi parlo delle novità del 2018 quelle che si sanno e che stanno anche già uscendo in questi giorni queste sono le profumazioni che sono uscite per pasqua una è una diabetica decisamente quell'altra una fiorita questa sa di le gialli bin le caramelline qui fagiolini perché bin è fagiolino e fagiolino di gelatina sono caramelline il sentore principale che predomina questa fragranza è l'uva perché fondamentalmente sono caramelline non tutte ci sono gusti impensabili tipo pop corn tipo patatina fritta caramella le patate gusto patatine fritte davvero e questa qua predomina tra tutti il gusto fruttato e soprattutto quello di uva qua invece abbiamo una ai tulipani sostanzialmente da accesa e ad accesa da fredda cosa vuol dire e da annusata da fredda sembra molto buttata lì come fragranza cioè un masto di fiori finti presi cacciati dentro un vaso che è ciarpa qualche bella primavera no da accesa migliora migliora decisamente diventa una fragranza simpatica non molto definita si si sente il fiorito però è molto vago e alla fine mi è piaciuta cioè sul momento ho detto boh potevano impegnarsi anche di più invece acceso l'ho decisamente rivalutata nonostante sia una fiorita questa profumazione e queste erano le due fragranze pasquali tolgo queste due che le rimetto al loro posticcino e vi tiro giù queste tre sberle queste tre sberle sono una collezione che è uscita quest'estate si inizio estate fino a primavera non mi ricordo esattamente comunque il video dovreste vedere la data sono no sti cavoli è uscita all'insegna dell'estate perché mi pare che sia il 4 luglio correggetemi se sbaglio dovrebbe essere la festa di indipendenza americana e sono uscite proprio essendo candele americane queste qua ovviamente seguono le loro festività esattamente come c'è con l'altacchino per il Thanksgiving Day queste qua sono tre profumazioni dedicate appunto a questa festività sono tre no non c'è scritta la la categoria perché sono collector edition queste qua sono appunto per i collezionisti la prima è Stars and Stripes che ricorda molto come genere la home sweet home questa è mela e zucchero si sente inizialmente la mele poi tac la stoccata di zucchero questa qua invece da spenta sa di tipo odore di zolfo di mortaletto invece da accesa rimane più delicata e ricorda più una dopo barbina però una dopo barbina leggera davvero molto piacevole e non c'entrano niente i fuochi d'artificio se non per il fatto che la spenta me ricorda un sacco lo zolfo e queste qua erano le profumazioni dedicate al appunto al 4 luglio Independence Day Stars and Stripes God Bless America Spirit of America le queste qua erano quelle procedendo poi con le novità con le novità con le limited edition nuove la Yankee ha sfornato queste 4 qua le gold collection gold è il filo conduttore di tutte queste fragranze sono 4 sono 4 sentori diversi tutti accomunati da questo voler essere d'oro il packaging completamente nero a contrasto con i ricami e l'etichetta completamente diversa i ricami i disegni i serigrafati adesso non so come si dice sulla cosa sulla sull'etichetta in due formati aspetta che ve li zoom in due formati perché ci sono oddio qua ci sono i adesso nero su nero un genio poteva solo fare una roba del genere ci sono i pillarini tamblerini qua e le giare che giustamente non sono qua e le giare che sono giare normale e medie un costo diremente diverso direi che da qualche parte si possono ancora trovare se ne siano ancora disponibili io poi ovviamente non ve l'ho detto ma vi lascio sotto nell'info box poi tanto li trovate anzi niente infobox sotto dove trovate i vari link dei vari video delle varie collezioni delle varie fragranze trovati in allegato dentro ogni singolo video il negoziante dove io l'ho acquistata quindi siamo già posto così allora ci sono quattro profumazioni allora andrei prima qua golden sandalwood quindi è un anche qua ve la faccio ve la faccio sintetica appunto perché vi lascio il link golden sandalwood che quindi è sandalo ed è forse la più quella un pochino tra le volete più criticata perché pare pare più delicata però invece non lo è poi abbiamo la golden amber quindi un sentore comunque sono due note di fondo queste qua quindi un sandalo e un'ambra dorata in due quindi due generi diversi ovviamente io ho preso i due pillarini di questi ma ci sono anche le giare medie sono l'unici due formati disponibili la golden rose quindi questa rosa dorata che a mio avviso ricorda un sacco ma un sacco un sacco un sacco quindi se avete provato la fragranza che sto per dire e la conoscete e avete nota e avete preso anche questa questa qui e avete avuto la mia stessa idea ditemelo sotto nei commenti la mi ricordo un sacco la christmas rose questo odore di nonnetta sprint che dicono dire nonnetta sembra quasi un'offesa in fece non lo è perché sono due fragranze che io amo nonostante siano delle fiorite che quindi con le fiorite sì mi piacciono però guardando un pochino la media delle mie giare sono più una da fresh o food ecco poi abbiamo come ultima ma non d'ordine di importanza la golden orange blossom che è un misto che più che arancia è un misto tra petit grain e che questi qua me lo ricordo perché mi si sono ficcati in testa spero di non dire una cavolata e neroli no sì perché praticamente più che arancia proprio profuma della buccia d'arancia è un è dolce sì perché comunque non è che è speziata come profumo però c'ha quel retrogusto filinino amarognolo che è una cosa da giù di testa questa qua ed è quella che delle quattro mi ha sorpreso di più per la sua particolarità ovvio queste qua non sono assolutissimamente un genere di yankee candle che comunemente ecco facciamo i paciughi che comunemente ci aspettiamo sono profumazioni che se fossero profumi per il corpo sarebbero decisamente profumi di nicchia perché sono insiemi di note quindi nella loro scala olfattiva davvero particolari che non si ritrovano a parte appunto questa golden rose però ok ricorda la christmas rose che è una fragranza che è stata a catalogo però in nessun modo va a si assomiglia sì però è un genere di profumo completamente diverso ci sono dei rimandi ma perché comunque ci sono di base sempre rosa però davvero queste qua sono davvero profumazioni particolari che a non tutti possono piacere lo ammetto però davvero sono di un altro livello cioè sono di una concezione di profumo completamente diversa rispetto a ciò che ci aspettiamo di solito queste erano le quattro della gold collection poi andando avanti adesso le levo andando avanti con le limited edition se ho parlato di pasqua bisogna parlare anche delle fragranze di halloween allora halloween quest'anno che io ho preso l'unica giara che ho preso è stata questa la haunted hollow e poi avevano questa e questa che è la witch's brew e la forbidden apple witch's brew c'è da navita come profumazione invece la forbidden apple è dall'anno scorso e la novità è stata questa haunted hollow allora la forbidden apple è mela verde tranquilla la witch's brew è invece una profumazione dove dopo barbina a mio viso dove risalta dicono la liquarizza io sinceramente sento principalmente il paciuli invece la haunted hollow è la novità completamente sa di incenso una profumazione grigia lugubre sul serio sa d'obitorio ma nel senso buono nel senso logico del termine non è che sa di morto che adesso poi la porta di morto cioè non è che sa di morto sa praticamente è proprio una fragranza che crea a livello psicologico un'idea lugubre nell'ambiente quindi con halloween ci sta da dio ci sa sicuramente dell'incenso in mezzo adesso poi ovviamente la recensione fatta bene ve la trovate qua sotto ed è una novità e la particolarità di questi oh che si è vista anche la manica la particolarità di questi pillar è che man mano poi che si brucia la candela che io poi giustamente l'ho messa sotto la lampada quindi non si bruciera mai man mano che bruciate c'è incisa qua dietro infatti si vede un po' contro luce ecco così che si vede un po' qua una frase horror di un racconto di non mi ricordo di chi ma lo trovate tutto ovviamente sotto al nel video che vi linko qua sotto ecco invece queste sono le a parte che è l'ultima tornata di limited edition ultima ma non per ordine di importanza le cookie swap sono di queste sono tre perché tre sono state commercializzate nei negozi e sono tre profumazioni di questa collezione cookie swap cookie swap collection uscita in america un anno fa è arrivata nel natale 2017 qua in italia che poi era arrivata a cavallo di settembre sempre per essere a tema doveva ancora iniziare l'autunno ma avevamo già le invernali così eravamo belli cariche preparati per l'inverno che c'è adesso sono tre sono la magic cookie bar questa qua gialla che principalmente è cioccolato cioccolato e cocco un mixture cioccolato e cocco iced gingerbread potete immaginare di cosa posso sapere quindi è pan di zenzero con sopra potrei fare una causa pan di zenzero con allora questa qua la cookie bar quella con cioccolato e scaldi di cocco perché il cocco c'è ice gingerbread che quindi è pan di zenzero insieme a una glassa un frosting una glassa sopra quindi un pochino più dolce del solito zenzero e questa che è la fine del mondo perché è sostanzialmente è la Mary Berry Linzer che è una ricetta tedesca di questi biscottini ma è sostanzialmente come si chiama i canestrelli i canestrelli con marmellata di lamponi cioè voi potete solo immaginare se amati i canestrelli i lamponi cosa potrebbe essere tutto ciò ecco la vita cioè lasciando la potenza queste delle due forse delle due delle tre è quella più tranquilla perché questa e questa spingono un sacco e le ho accese tutte da stoppino prima di metterle sotto la lampada questa è finita sotto la lampada questa ancora no ma sicuramente anche queste daranno i loro frutti anche perché questa qua con la lampada butta ancora più su queste sono le ultime non per ora in importanza profumazioni uscite nel 2017 spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi invito ad iscrivermi così da potermi sostenere e motivare questo tipico gesto italiano motivare sul mio canale di seguire il blog di iscrivervi al canale Candle University Italian Edition link ovviamente insieme a tutto l'altro mazzone un bouquet di link si sarà qua sotto in descrizione sul gruppo sul blog qui sul canale iscrivetevi attivate il campanellino mettete il like ovviamente se vi piacciono questi video così io capisco e vi ho lasciato il link sotto in info box poi che altro dire ah c'ho anche Instagram iscrivetevi anche su Instagram e con questo video vado a concludere i miei video del 2017 e adesso poi siamo a tiro tra due giorni è capodanno quindi vi auguro un fantastico capodanno e noi ci vediamo il primo il primo gennaio visto che è lunedì e casca proprio a fagiolo con il video delle FOM di gennaio 2018 ciao a tutti e buon 2018 buona fine e buon inizio e ci vediamo ciao a tutti